Mi interessa che il sindaco di Varese e di Verona in Pugno domani possa aspettare in quattrilica e risparmiarlo in... Più passa il tempo e più ti amo, chissà perché. Chissà che ti daranno da mangiare laggiù in Terronia. Qua hai Matteo Salvini che ti protegge e laggiù... E vuotemi bene Pasquale, mi raccomando. E certamente quello la la lega la lascia qua. Se vado io invece che sono della Basilicata, io la lega la trovo la. Sì! Ha 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 ha! Oh! È molto tempo che è mancata la campagna. È... Ha scaricato la PMU. Per me può andare. La vedrà! E mettiti la mascherina che sei peggiorato. Ha 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 Un'azistica Grazie a tutti. 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 Cabina numero uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.